Bella a tutti ragazzi, sono Arian Eccomi qui ritornato in un altro gameplay che non potremmo dire gameplay perchè alla fine è un glitch Praticamente oggi siamo sul come duplicare i prestigi su Ghost Come avete visto basta che andate nel menu principale ai Ghost dopo nel multigiocatore A questo punto scegliete il secondo giocatore il vostro account hackerato da duplicare Per sprecarmi meglio, l'account hackerato che volete copiare sul vostro primo account Dopo che avete ceduto con esso uscite E accedete con l'account che volete hackerare Cioè che volete che subisce l'acc come potete chiamare Non so spiegarmi bene Il mio primo account non serve a niente là sopra comunque A questo punto dovesse cercare una partita Ma siccome a me non la cerca non so Ho visto altri video in cui la cercavo A me ad esempio no In questo caso se vi esce come esce a me Andate sul vostro account che avete copiato il prestigio E tutto quel che avete naturalmente Andate sull'account e andate naturalmente su Ghost A questo punto sono multigiocatore E come ho detto prima l'account quello mio XXR10XX Cioè il primo Non servirà a niente, serve solo da vedere Non serve per il glitch Voi potete prendere un account semplice che non vi serve a niente A questo punto andate ragazzi sul gioco online E vedrete naturalmente il vostro prestigio moddato Come potete dire copiato Questo potete fare con ogni prestigio Io ho scelto l'ultimo Infatti potete vedere che sul mio secondo account Tutte le cose che ho copiato da un altro account hackerato Vabbè ragazzi guardate Dato che abbiamo raggiunto i 1000 iscritti Grazie a tutti Prossimamente farò il video dello speciale appunto Niente ragazzi per questo video è tutto Vi ricordo di commentare e di iscrivervi Bella No, I didn't think that it would be like this So now I gotta work out what it is I missed Now all this love is sticks and stones Being thrown around homes Breaking bones No, I didn't think that it was